Motorino del centrocampo Pasquale Riccio, chiara si respira la ripresa degli allenamenti in casa Mondragone? Sono contento comunque per come sta andando l'andamento del Mondragone calcio, sicuramente dobbiamo raggiungere quanto prima l'obiettivo della salvezza per poi ambire qualcosa di più alto, però comunque voliamo basso e stiamo con i piedi per terra. Se farà meglio la trasferta di casa al nuovo, le vostre sensazioni se si affronterà una diretta concorrente per la salvezza? A prescindere che sia una diretta concorrente per la salvezza sappiamo comunque bene che ogni partita è una storia a sé e ogni partita è dura e noi siamo pronti comunque a dare il massimo in campo. Faccio comunque i miei complimenti a tutta la città di Montragone che c'è vicino e soprattutto agli addetti ai lavori.